Immagina un mondo in cui tutti i colori della natura possono entrare a casa tua. Pensa di poter dipingere ogni superficie senza limiti di materiali, problemi di presa o di copertura. Il nostro servizio ti indica le varie tipologie di pitture e le particolarità rispetto ai materiali che desideri dipingere, offrendoti una vasta scelta di prodotti. Pitture e idropitture da interno ed esterno, smalti, smalti antiruggine universali e impregnanti per legno. Vieni a vedere! Tutto fatto dal negozio! C'è molto da sapere sul mondo dei colori e il nostro servizio, Colori su misura, è nato per questo. Grazie allo spettro fotometro e al tintometro puoi replicare qualsiasi colore partendo dall'esempio che ci porti. Una volta scelta la colorazione, ti consigliamo la quantità che ti serve. E allora, buon lavoro! Dopotutto il nostro motto è... Le tue idee sono il nostro mestiere!